Musica Quest'oggi siamo a Cegia Maggiore, siamo venuti a incontrare il sindaco Carlo Zanella per parlare del suo territorio. Buongiorno. 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 Innanzitutto grazie per averci accolti, siamo nel pieno dell'estate e in estate ci si aspetta sempre un certo numero di eventi. Per fortuna quest'anno le cose sono ripartite, immagino anche qui. Sì, le cose sono ripartite, intanto buongiorno a tutti, benvenuti nel nostro comune. Le cose sono ripartite, nonostante un po' di timori primaverili, quando c'era stato un po' l'aumento di nuovo dei casi Covid, l'associazione di volontariato in particolare e l'amministrazione comunale si è mossa celermente e direi in maniera molto proficua. Siamo riusciti e le associazioni sono riuscite a organizzare tutta una serie di eventi molto importanti che hanno dato come risultato una grandissima partecipazione di pubblico a ogni evento che è stato organizzato. Mi riferisco dagli eventi sportivi, c'è stata la Selvareg a inizio luglio in Valcanzoi, con un buonissimo numero di partecipanti, alle serate culturali che sono state organizzate dall'amministrazione comunale, sia le serate in villa, presso Villa del Centenere, e qua ringraziamo i proprietari Famiglia Zilio perché ogni anno ci consente di utilizzare i loro spazi e sono ben contenti di mostrare un tesoro che abbiamo nel nostro territorio, sia quelli un po' ludici come appuntamenti, quindi mi riferisco in particolare alla rassegna Figuriamo, cioè la rassegna itinerante che comprende un po' tutti i territori del Feltrino e non solo, con molta partecipazione da parte anche dei piccoli, pur essendo in orario serale, e portando veramente momenti di allegria. Molto presumibilmente la gente aveva davvero bisogno di ritornare a una vita sociale di un certo tipo e momenti di aggregazione e di scambio di idee. Abbiamo poi in divenire altri importantissimi eventi, l'ultimo fine settimana di agosto ritorna finalmente la festa della patata dopo due anni di stop, che è forse l'evento con maggior partecipazione del nostro territorio, migliaia di persone ogni anno vengono a degustare cibi a chilometri zero, cibi di qualità, portate quasi tutte a base di patata, naturalmente la patata dopo di Cesio Maggiore e dopo abbiamo in inizio settembre altri due importanti eventi, uno organizzato dal comitato genitori dell'asilo di Cesio Maggiore, la cammina con i gufetti, sulle orme di quella che era la cammina con i gufi che ha veramente portato migliaia di persone nel nostro territorio, i genitori dei bambini che frequentano all'asilo di Cesio Maggiore hanno deciso di organizzare questa serata, che è una camminata con bambini e non, di circa due chilometri e mezzo, nei nostri luoghi appena fuori il centro di Cesio Maggiore dove verranno organizzate delle tappe di intrattenimento sicuramente interessanti. Lo stesso a fine settimana, quindi la prima domenica di settembre, viene organizzata invece dall'UCIFUEN in collaborazione con l'amministrazione comunale di Cesio la tappa molto importante della gara juniores di ciclismo maschile e poi la gara elite femminile il pomeriggio. Due appuntamenti, due gare che sono diventate ormai una consuetudine nel nostro territorio. L'UCIFUEN che ci dà fiducia e noi siamo ben contenti di questo visto che siamo il paese del ciclismo. Qui fuori, qua sotto, ci sono dei lavori in piazza. Immagino che non siano gli unici che vedremo o abbiamo visto quest'anno. Tra l'altro voi siete in continuità amministrativa, è appena iniziato il nuovo quinquennio da qualche mese quindi insomma immagino che ci sia anche la possibilità di completare partite che erano già state aperte prima. Sì, sicuramente. Qua sotto nel municipio si stanno ultimando i lavori di sistemazione e di qualificazione di piazza mercato. I lavori adesso sono fermi naturalmente per le ferie estive anche delle squadre operai che ci stanno lavorando. riprenderanno l'ultima settimana di agosto. È uno degli interventi sicuramente più invasivi e hanno portato anche naturalmente come conseguenza dei disagi. Ci auguriamo che comunque la cittadinanza comprenda che per fare un intervento simile sono necessari alcuni mesi di patimenti direi da parte di tutti però il risultato lo si inizia a intravedere ed è veramente molto interessante anche dal punto di vista estetico ma soprattutto della logistica e della fruibilità della piazza. Abbiamo poi in conclusione tutti quelli che sono i lavori nel centro di Sor Anzen l'ultima parte che rimane da fare sono delle asfaltature di tratti di asfaltatura e dopo il centro di Sor Anzen sarà completamente rinnovato sia come sottoservizi, come pavimentazione e come illuminazione pubblica. Abbiamo degli interventi magari minori ma non meno importanti che verranno realizzati sempre dentro la fine di agosto di tratti di asfaltatura soprattutto su via Marianne che aveva necessità di una risistemazione di tutto il tappeto stradale perché con l'inverno e con il transito di mezzi pesanti il fondo stradale si era piuttosto deteriorato e per la sicurezza sicuramente di chi transita anche in bicicletta visto che è un percorso molto fruito anche dai ciclisti dobbiamo andare a risistemarlo. Rimane l'asfaltatura a fare in centro a acceso minore di un tratto legato a quello che era la riqualificazione del centro frazionale e poi ci sono altri piccoli tratti tipo via strada di San Piero Soranzeng che verrà comunque realizzata entro qualche settimana. Abbiamo poi in rimanenza ancora una sistemazione che è il viale del cimitero di Pez legato anche questo ai lavori della piazza di Cesio Maggiore erano all'interno dello stesso lotto i lavori e quindi entro la fine di settembre il tutto verrà completato. E poi c'è la programmazione con l'accesso a varie linee di finanziamento però diciamo che voi per la posizione e per i confini geografici avete la possibilità di attingere al fondo comuni confinanti. Che idee ci sono in ballo lì? Che progetti ci sono in divenire? Sì, noi abbiamo in attesa di approvazione del comitato paritetico l'annualità 2022 dei fondi comuni a 500 mila euro, quelli comunali nei quali abbiamo inserito tre opere o tre lavori o tre investimenti meglio dire. Uno, importantissimo, è l'acquisto del nuovo scuola bus che andrà a sostituire il più datato che abbiamo in dotazione per rendere più sicuro il transito e il trasporto dei nostri bimbi verso le scuole o verso le attività post scolastiche. Abbiamo nello stesso lotto inserito sempre per quanto riguarda i più piccoli un intervento su un'area che è di proprietà della parrocchia con la quale appena avremo la certezza del finanziamento andremo a fare o stipulare una convenzione di lunga data per prendere in carico come comune il cosiddetto brollo del prete ovvero l'area a sud della canonica di Cesio Maggiore già dedicata ai più piccoli, quindi c'è un piccolo parco giochi un campo da basket e un campetto da calcio. Vista la frequentazione alcune sere ci sono 50-60 bambini quindi cose che nei nostri comuni veramente diventa raro vedere abbiamo pensato sia il caso veramente di collaborare con la parrocchia per rendere sicura e anche forse più bella e più fruibile l'area. Il terzo intervento sarà legato invece al risparmio energetico e andiamo a sostituire circa 250 corpi illuminanti dell'illuminazione pubblica quelli più vecchi, quelli con tecnologia e sodio quindi quelli che consumano di più nelle frazioni più grandi quindi andremo a sostituire tutta la frazione di Marsiai tutta la frazione di Busche e tutta Via Grey che è la provinciale che porta verso Cannes. Questo proprio per andare a migliorare sicuramente quella che è la visibilità notturna ma anche su un argomento molto di voga in questo periodo che è il risparmio energetico. E che insomma il risparmio energetico è divenuto una necessità oltre che insomma una cosa di base intelligente da fare però adesso i costi sono aumentati quindi sull'energia bisogna risparmiare. Sì, noi abbiamo cercato di intervenire fin da subito ancora alla fine dell'ultima amministrazione quindi anche in un periodo dal punto di vista elettorale magari controproducente però il rischio era veramente di trovarci con un buco di bilancio molto importante. Le ultime stime che sono state fatte parlano di circa un raddoppio dei costi di energia elettrica per l'illuminazione pubblica per l'anno 2022. Passiamo da circa 70-75 mila euro a circa 140 mila euro per l'anno in corso. È chiaro che un piccolo comune come Cesio Maggiore non ha le risorse economiche per sostenere una spesa del genere. Quindi ancora qualche mese fa abbiamo scelto anzi ho scelto anche scontrandomi in mari con i miei colleghi di giunta però di spegnere l'illuminazione pubblica dalle 24 alle 6 di mattina proprio per cercare di contenere quelli che sono i costi. Non sarà sicuramente sufficiente ci auguriamo che il governo vada a rifinanziare delle forme di sostegno ai comuni perché sicuramente ci siamo trovati in una situazione anomala straordinaria che non è dovuta alla mala gestione sicuramente dei piccoli comuni o del territorio ma sicuramente a delle cose superiori e che con noi con l'amministrazione non c'entra assolutamente nulla. Dobbiamo cercare comunque di portare avanti una certa filosofia che vede tutti impegnati nel risparmio energetico. Altro argomento che viene avanti è e lo vediamo con la carenza idrica capire che le risorse che abbiamo a disposizione non sono illimitate e quindi tutti dobbiamo cambiare un po' la filosofia di vita risparmiando sia quello che è il bene più prezioso che forse l'acqua e anche quello che sono le risorse energetiche che abbiamo a disposizione. Abbiamo avuto modo di parlare diverse volte vedendoci di due progetti in particolare che hanno in realtà un grosso punto in comune che è l'agricoltura però poi declinano questo argomento in maniera diversa. Uno è il centro a trasformazione di bosche e l'altro invece è un progetto che possiamo dire anche abbastanza ambizioso per pulire. Esattamente. Noi abbiamo sempre portato avanti un ragionamento molto interessante con le cooperative del nostro territorio che fanno dei prodotti di nicchia ma prodotti di estrema qualità. parliamo di Valcarne piuttosto che la cooperativa Fiorita piuttosto che le altre bosche. Per questo è il caso di continuare a investire in questo settore. Il centro di trasformazione di bosche che è il primo straccio già in corso d'opera avendo avuto comunque grossissime difficoltà di realizzazione perché ci sono state dei ritardi a parte di una delle ditte che aveva in esecuzione i lavori che dopo si è trovata all'interno dell'aumento dei costi del 2021 e questo ha sicuramente ritardato tantissimo in realizzazione. Adesso i lavori sono in corso ci auguriamo che per la fine dell'anno la struttura sia realizzata anche se magari non ultimata e questo andrà probabilmente alla primavera 2023 ma abbiamo già in divenire quello che è il secondo stralcio quindi una seconda parte dello stesso fabbricato che verrà realizzata con l'ottica di portare avanti lo sviluppo di un altro prodotto importantissimo per il nostro territorio quindi l'orzo una malteria che andrà a dare aiuto e sviluppo a quelli che sono i micro birrifici i piccoli birrifici artigianali che sempre di più nascono nella nostra vallata e nella nostra provincia. Il secondo progetto del quale stiamo sempre attendendo l'approvazione da parte del Comitato Paritetico di Trento quindi finanziato con fondi comuni confine di area vasta è la realizzazione di una fattoria sociale in una delle colonie dell'Ulss di Pulir Pulir storicamente ha dato tantissimo a quello che è la vita sociale e anche di fornitura verso quello che era prima l'ospedale Ifetra e poi l'Ulss avendo una dozzina di colonie quindi erano gestite da persone anche che venivano fuori provincia per la produzione di prodotti agricoli che poi venivano gestiti e dati in uso all'ospedale civile Ifetra storicamente quindi si è reso necessario secondo noi ridare vita a una di queste colonie con lo stesso scopo mettendoci dentro persone che hanno qualche disagio sociale che quindi hanno bisogno di aiuto e supporto il contatto con la terra secondo noi potrebbe essere un validissimo aiuto per queste persone a tornare a fare una vita di accettazione e anche di direi con uno scopo davvero molto molto importante nella stessa comunque ormai concludendo nella stessa programmazione di area vasta abbiamo inserito un altro progetto molto importante che è la riqualificazione dello stabile di Orsera per rilanciare definitivamente quella che è la Valcanzoi anche dal punto di vista ricettivo turistico anche quest'anno abbiamo visto che la frequentazione è elevatissima ci sono tanti davvero escursionisti o famiglie che vanno a camminare in Valcanzoi bisogna però anche cercare di dare un punto di appoggio fondamentale come può essere Orsera ma io direi che anche il privato davvero deve essere spronato a investire e a credere in quello che è il nostro gioiello dal punto di vista ambientale ed escursionistico grazie per averci accolti grazie davvero a voi grazie e quindi ci vediamo alla prossima tappa grazie a tutti